Vince il paterno come da pronostico, ma con un pizzico di sofferenza di troppo nel finale, cosa che non ha lasciato particolarmente soddisfatto l'allenatore Lucarelli. Ma al di là del risultato numerico, bisogna anche dire che di occasioni per arrotondare, i marsicani ne hanno avute diverse, sbagliando anche opportunità facilissime, come ad esempio quella di Aquino al 22esimo della ripresa, o quella di Paris, proprio al tramonto della gara. Novità in casa nera azzurra, con l'esordio di Gabriele Puglia dal primo minuto, al posto di Andrea La Selva, che, detto per inciso, non ha mai convinto del tutto nel corso di questa prima metà di campionato. Kras, Leccese e Paris vanno inizialmente in panchina, ma tutti e tre verranno utilizzati poi nel corso della ripresa. Pronti via e su Kras di Aquino, Albertazzi viene atterrato in area e reclama un rigore, che poteva anche starci, ma l'arbitro non se la sente di indicare il dischetto dopo solo 60 secondi. Ancora un giro di lancette e c'è una bella combinazione fra Vitale, Aquino e Di Ruocco, che costringe il portiere ospite a salvarsi per il rotto della cuffia. In questa fase iniziale in campo si vede solo il Paterno, che all'undicesimo passa in vantaggio. Di Ruocco viene pescato in posizione centrale, breve controllo e destro sotto la traversa, che non lascia scampo a Napoli. E sull'onda dell'entusiasmo i marsicani continuano a menare le danze, con questo cross dal fondo di Bolzan per Puglia, che calcia al volo, scheggiando la traversa. Poi il River si sveglia e al ventiduesimo raggiunge il pareggio, per merito di Antignani, che riceve palla sulla sinistra, osserve il piazzamento del portiere e lo fulmina con un pallonetto che manda la sfera a spegnersi sotto l'incrocio più lontano. Uno a uno è tutto da rifare. Il Paterno torna ad attaccare a testa bassa, ma la difesa teatina non lascia varchi e Aquino non viene mai servito in maniera adeguata e tale da poter puntare la porta avversaria, così che il primo tempo si chiude sul risultato di uno a uno. Nella ripresa il Paterno riprende ad attaccare alla ricerca del vantaggio e quindi dei tre punti necessari per continuare a sperare nella risalita e all'ottavo minuto soffruisce di un calcio di rigore. L'azione è come tante altre viste sui campi di calcio, ma accade che un difensore del River, il numero 4 Marcelli, ha un raptus che lo porta a sferrare un calcio ad Albertazzi a palla lontana. L'arbitro non ha dubbi e ravvisa immediatamente l'infrazione e dal momento che siamo in area il calcio di rigore è la logica conseguenza. Inutili le proteste di Marcelli e del capitano Ferragalli. Dal dischetto Di Ruocco non sbaglia e realizza la propria personale doppietta. Il River accusa il colpo e il Paterno potrebbe arrotondare poco dopo quando Di Ruocco penetra in area e crossa in mezzo per Albertazzi che ci prova in scivolata, ma un difensore le spinge in estremis. Alla diciassettesimo altra opportunità per i nerazzurri. Tira Aquino e Napoli le spinge, riprende d'amico di testa e ancora l'estremo ospite compie un mezzo miracolo evitando la capitolazione. Altra palla gol ma questa ancora più clamorosa mancata da Aquino al ventisesimo su cross di Di Ruocco. Palla che chiede solo di essere spinta in fondo al sacco ma l'attaccante non ci arriva e il rammarico è grande sia in campo che in tribuna. Il River prova a riorganizzarsi ma prima del forcing finale c'è ancora un cross basso di Paris alla sinistra che Bolzan conclude alto al volo. E poi il paterno si ritrae un po' e i teatini prendono coraggio con Antignani che al quarantesimo viene a trovarsi a tu per tu con Serpietri ma il portiere riesce in qualche modo a deviare il pallone che diversamente sarebbe finito in fondo al sacco. Altro intervento di Serpietri un minuto dopo con questo tuffo necessario per deviare in angolo una conclusione dal limite. E per finire vi mostriamo l'occasione gettata alle ortiche da Paris che va via di corsa per 50 metri ma tira troppo fiaccamente consentendo a Napoli di intercettare seppure in due tempi. Paterno River finisce qui. Prima di arrivare in sala stampa Alessandro Lucarelli. Allora vittoria doveva essere, vittoria è stata però con troppa sofferenza nel finale. Sì, questo succede quando tu non riesci a chiudere le partite e sbagli diverse occasioni da gol che non ti permettono di stare più tranquillo e alla fine ci sta che loro buttandosi avanti con questo attaccante che di testa comunque è molto bravo a fare la sponda per gli inserimenti dei compagni ci hanno messo leggermente in apprezzione però credo che la partita è solo un risultato un po' anomalo perché poteva essere molto più largo. La squadra secondo me oggi si è espressa bene è chiaro che hanno tanta ancora paura e devono togliersi la paura della vittoria la paura della vittoria facile perché noi siamo secondo me la squadra più forte del campionato però poi per dimostrarlo bisogna prendere quella fiducia, quell'autostima e solo facendo così si può risalire e io credo che tra un mese e 40 giorni noi vedremo un paderno tranquillo che viene qui dove verrà a fare le partite qua in casa allo Salve De Marsi con più tranquillità ecco più concretizzando le occasioni che capiteranno dobbiamo essere bravi però subito da sabato perché ci aspetta una partita molto difficile su un campo in terra e non voglio neanche sentire l'idea che non ci appartiene il campo in terra perché noi ci alleniamo tutti i giorni sul campo in terra quindi nessuna scusa ma pensiamo a fare ancora risultato perché veramente ce n'è bisogno è arrivato anche Luciano Miani allora un bel river che però porta a casa zero punti lei mi deve spiegare che cosa è successo in occasione del calcio di rigore che gli è passato in testa al vostro giocatore ma è quello che ho chiesto all'arbitro a fine partita sinceramente perché nessuno ha visto niente e mi ha detto testualmente gli ha dato un calcetto a pallo lontano allora va bene allora dico se è così fiscale bisogna fiscarne i 20 rigori a partita però al di là dell'episodio insomma il paterno è una grande squadra una grande potenzialità anche se oggi voglio dire noi non meritavamo affatto della sconfitta